Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. C'è la cronaca giudiziaria in primo piano, si è riaperto stamattina il processo per il delitto Molaro accaduto a giugno del 2022 a Codroipo, ricorderete la giovane Elisabetta Molaro uccisa con 71 coltellate dal marito che poi si ha confessato e proprio lui in aula stamattina in tribunale a Udine è intervenuto leggendo un messaggio, mi dispiace tantissimo che persone a cui avevo dedicato parte della mia vita e che ritenevo amiche nutrano ancora dell'assio nei miei confronti, so che ciò che ho fatto è un gesto irreparabile, quel giorno è morta Elisabetta e sono morto anch'io, mi spiace che il mio grido di aiuto a mantenere unita la famiglia che avevamo costruito negli anni si è stato scambiato per ossessione, così Paolo Castellano il 45enne re confesso dell'omicidio della moglie si è pronunciato dopo le dichiarazioni rese in aula dalla madre della donna Petronilla Beltrame. Nell'ultimo periodo ha detto la madre Paolo era molto geloso e il rapporto tra loro si era incrinato, lui era possessivo a volte aggressivo, uno sopporta finché riesce ma a un certo punto deve prendere una decisione così sempre la madre di Elisabetta. L'udienza è proseguita quindi con l'audizione di un'amica della vittima conosciuta all'asilo e ritrovata poi come collega la testa escluso di avere mai saputo di relazioni extraconiugali di Elisabetta. In programma anche un intervento del consulente della parte civile, si tratta di Marco Alvise De Stefani specializzato in informatica forense, presieduta dal giudice Paolo Alessio Verni e all'atere dalla collega Paolo Milocco da sei giudici popolari. La Corte d'Assise del Tribunale di Udine ha calendarizzato poi per domani, venerdì 3 marzo, la discussione delle parti. Ci sarà la requisitore della PM, Finocchiaro, titolare dell'inchiesta e considerata l'imputazione, un micidio volontario aggravato dal grado di parentela e dalla crudeltà, Castellani rischia la condanna all'ergastolo. Sempre per quanto riguarda la giudiziaria, il Tribunale di Trieste è invece condannato a dieci anni di reclusione con il risarcimento delle parti civili. Un ex allenatore di calcio del settore giovanile di una società sportiva locale a processo per abusi su 15 giocatori della squadra. La Procura aveva chiesto una condanna, meno severa, di nove anni e due mesi di reclusione. L'uomo, presente in aula per la lettura della sentenza, si è sempre proclamato innocente. L'allenatore era stato arrestato nel gennaio 2021 dalla squadra mobile all'esito di un'indagine corinata dal PM Baldovin. Era stato rintracciato dagli agenti sul luogo di lavoro. Secondo la ricostruzione accusatoria, l'allenatore aveva molestato ripetutamente i ragazzini minori di 14 anni, sia nell'ambiente sportivo, sia riaccompagnandoli a casa dopo gli allenamenti. Rimanendo nel capologo regionale, sul caso Resinovic chiedono ancora ai familiari della donna ritrovata morta a Trieste. Verità con l'intervento del fratello Sergio Resinovic che alla trasmissione Chi l'ha visto ha chiesto che la sorella, che si faccia luce sulla storia della sorella dopo la richiesta di archiviazione della Procura. Il fratello ha dichiarato mia sorella non si sarebbe mai uccisa dunque per me la tesi della Procura non è valida. Chiedo un approfondimento delle indagini e per questo che il corpo di Liliana venga riesumato così appunto Sergio Resinovic dopo la decisione della Procura. Ancora cronaca con due incidenti stradali accaduti nella provincia di Pordenone, due persone sono state soccorse attorno alle 9.30 a seguito di uno schianto. Vedete le immagini accadute in via Malignani nella comune di Pordenone. Sul posto dei sanitari del 118 due persone ferite che sono state trasportate in codice giallo al Santa Maria degli Angeli e alla Santa Maria della Misericordia di Udine. Un secondo incidente stradale si è verificato invece ad Aviano in via Piava, anche in questo caso lo scontro tra due vetture, tre le persone rimaste ferite tra codici gialli e codici verdi, tutte accompagnate in ospedale. Sempre per quanto riguarda Pordenone, continuo al controllo da parte delle forze dell'ordine dopo gli ultimi episodi che hanno visto protagonisti giovani nel centro città e la polizia locale ha effettuato diverse verifiche sulla prevenzione e l'uso di sostanze stupefacenti. Da questi accertamenti è emerso che una ragazzina appena 14enne era in possesso di hashish e alla vista degli agenti ha tentato dapprima di lanciare l'involucro lontano da lei, successivamente lo ha ripreso consegnandolo ai poliziotti che stavano osservando. La minorenne è stata quindi convocata in comando assieme ai genitori. Un altro giovane al parco di San Valentino ha tentato di disfarsi sempre di alcuni involucri di sostanza stupefacente e poi altri controlli e ritrovamenti di sostanze psicotrope sono state rinvenute nel quartiere di Villanova. Gli operatori della Polfer di Tarvisio invece durante i controlli di vigilanza nell'ambito ferroviario della stazione di Bosco Verde a bordo di un treno internazionale proveniente dall'Austria diretto a Venezia hanno notato un passeggero il cui atteggiamento ha attirato la loro attenzione. Si trattava di un 35enne che era ricercato e in base alle notizie della Banca Dati europea su di lui pendeva un mandato d'arresto emesso dalle autorità svedesi per un reato di violenza sessuale. L'uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere a Udine. Ed ora ci trasferiamo a Monfalcone dove stamattina presso la Fincantieri c'è stato il varo tecnico della SANS Princess la prima delle due navi della nuova classe a gas naturale liquefatto che Fincantieri sta realizzando per la Princess Cruiser, una nave da record che sarà consegnata nel primo trimestre del 2024. Monica Nardini. Direttore, questa è una nave da primato, è la nave a passeggeri più grande finora mai costruita in Italia ed è la prima nave da crociera a gas naturale liquefatto costruita da Fincantieri. Come possiamo far capire anche l'importanza di questa nuova tecnologia che si basa sul gas naturale liquefatto? Ma, vede, realizzare una nave di queste dimensioni è già un qualcosa di straordinario. Come vedete questa nave è al limite delle dimensioni del cantiere di Monfalcone perché la costruzione di una nave è vincolata al bacino di costruzione, quindi ha una lunghezza che è quasi l'intera lunghezza del bacino. Dal punto di vista di tecnologie l'impiego dell'LNG è una delle opportunità e delle disponibilità che in questo momento esistono nel mondo croceristico di andare a realizzare navi che consentono una riduzione di quelle che sono le emissioni nell'aria. L'LNG, una nave di questo tipo ha quasi 3.500 metri cubi di LNG in pancia che vanno ad alimentare i motori principali. Questa nave ha 5 motori diesel principali che possono lavorare sia a fuel, cioè a nafta pesante, heavy fuel e oil, oppure possono lavorare con LNG. Quest'ultima opzione consente ovviamente della sostenibilità ambientale, un abbattimento delle emissioni non da poco. Corretto, quando la nave opererà non soltanto quando è in porto ma anche durante il tragitto, durante la navigazione, la nave potrà utilizzare esclusivamente LNG, il che significa riduzione significativa delle emissioni in atmosfera. Questa, la San Princesse, sarà consegnata, si prevede, nel primo trimestre del 2024, la gemella nel 2025, ma si prosegue nella lavorazione anche per altre navi. Sì, come vedete in questo momento a Mofalcone abbiamo più navi in costruzione, noi consegneremo l'Esplora della MSC nel mese di giugno, questa nave verrà consegnata all'inizio del prossimo anno, la gemella è la nave che consegneremo nell'estate del 2025 e poi abbiamo anche due navi per il gruppo TUI che fa parte della Royal Caribbean, quindi un carico di lavoro importante per questo cantiere ma in generale vorrei dire per tutti i cantieri italiani. Con che ricadute occupazionali? Molto importanti perché io dico sempre che noi utilizziamo tantissima mano d'opera locale, utilizziamo tantissime aziende italiane, fate conto che noi più o meno l'80% delle aziende sono medie e piccole aziende italiane che lavorano e che realizzano questi giganti del mare. Rimaniamo nel Golfo di Trieste perché a seguito della forte bora degli ultimi giorni gli ormeggi in banchina hanno subito inevitabilmente dei ritardi rispetto agli arrivi programmati. Oggi nella rada dei porti di Trieste e Monfalcone ci sono numerose navi in attesa dell'autorizzazione all'ingresso per poter svolgere le previste operazioni commerciali. Non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno il traffico riprenderà regolarmente e ha reso noto la Guardia Costiera con la Capitaneria di Porta di Trieste che sta monitorando la situazione. A proposito di economia si discute di futuro e di geopolitica da oggi a Udine per una due giorni promossa dalla Camera di Commercio. Col Presidente Giovanni Rappozzo andiamo a capire anche i termini di questo incontro che vede tantissimi rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, della ricerca, delle nuove tecnologie in campo per guardare proprio il futuro. Già nel 2013 noi con Friuli Future Forum avevamo iniziato un percorso dove volevamo confrontarci con realtà al di fuori della regione, al di fuori del nostro paese, al di fuori dell'Europa per capire, ed era il 2013, da che parte il mondo stava andando. Con Dialogue for the Future riproponiamo un tema di oggi, ma è il tema del futuro, quello della geopolitica e della geoeconomia. Lo facciamo, lo facciamo con un direttore scientifico come Federico Rampini, lo facciamo questo numero zero con un panel estremamente ricco e importante. È un contributo alle discussioni, agli approfondimenti, a quello che sarà il futuro non solo della politica, non solo della geopolitica, non solo della geoeconomia, ma è un contributo che vogliamo dare anche al mondo economico frullano. Un economico che cerca di intuire anche poi dove poter investire, c'è già qualche linea di indirizzo, anche magari ascoltando prima di questi due giorni quelle che sono le indicazioni dello stesso Rampini? Oggi si tratteranno dei grandi temi macro, dove chiaramente la guerra fra l'Ucraina e la Russia, anzi l'invasione della Russia, provocherà degli scenari, degli spostamenti verso nord per quello che riguarda il ruolo politico-economico dell'Europa, ma contemporaneamente c'è uno spostamento verso sud e soprattutto del Mediterraneo e quindi l'Italia ha una grande opportunità per quelli che sono i rapporti di rifornimento energetico con l'Europa. Quindi è tutto un mondo che sta cambiando e le opportunità chiaramente sono molteplici, però devono essere capite all'interno di questi cambiamenti. Nel frattempo a livello economico i dati resi noti oggi dalla Confindustria per il Friuli Venezia Giulia vedono negli ultimi tre mesi dello scorso anno il calo produttivo rispetto all'anno precedente, ma con minore intensità rispetto a quanto ci si attendeva. Siamo in fase di espansione, dice il Presidente Regente regionale Benedetti, con la situazione che vede le imprese dopo un primo semestre positivo, nel secondo hanno subito gli effetti dei costi energetici e dell'incertezza a seguito del conflitto in Ucraina. tra ottobre e dicembre il calo sullo stesso periodo del 2021 è stato però inferiore del meno 2,9% rispetto al 5,9% dell'anno precedente. Andiamo avanti ancora con il nostro notiziario parlando della Udine Design Week, una dimensione dedicata all'interspazio, il tema di questa edizione che coinvolge tutta la città. Il design come motore di cambiamento è fattore educativo di cui può beneficiare l'intera società. E da questa considerazione che ha preso le mosse ormai sette anni fa, l'Audine Design Week, che fino al 16 marzo animerà la città con mostra in sei gallerie d'arte, installazioni in 21 negozi e anche negli spazi all'aperto. E c'è un'app che aiuta a scoprirle tutte. Il tema di quest'anno è dimensione interspazio. Dimensione, ha spiegato Anna Lombardi, ideatrice della rassegna e presidente del Museo Virtuale del Design del Friuli Venezia Giulia, per rimanere in ambito design-architettura, dove questa parola desta subito il senso del rapporto tra l'uomo e le cose. Interspazio, per indicare qualcosa che sta tra, tra ieri e domani, tra reale e virtuale, tra cielo e terra, tra immaginazione e realtà. Cuore della rassegna le gallerie del progetto a Palazzo Morpurgo, dove sono presenti gli sgabelli in legno realizzati dall'Isis fermo solari di Tolmezzo e disegnati da importanti designer. Punto di partenza, il legno prealpino e il disboscamento consapevole. Un altro pensiero sulla sostenibilità è stato affrontato dalla sezione moda dell'Isis da Ronco di Gemona, che presenta abiti e accessori in materiali riciclati. La realtà aumentata, in cui si può accedere inquadrando i QR code della Udine Design Week, ci fa entrare nella dimensione interspazio indagata dagli studenti dell'ITT Marinoni. Protagonisti di questa edizione della Udine Design Week, anche gli studenti del Copernico, con le visite guidate del Marinelli e dell'Ucellis. Presentati in mattinata anche gli eventi collaterali per la tappa del Giro d'Italia, che vedrà protagonista il Monte Lussari nel maggio prossimo. Alessandra Visconti è consigliere comunale a Tarvisio con delega all'evento del Giro d'Italia. Tante iniziative che animeranno il capologo della Val Canale. Che cosa siete pronte a mostrare al mondo? Ci saranno una serie di iniziative collaterali che precederanno la tappa. Inizieranno da domenica 21 fino al 25. Avremo pensato di organizzare una corsa benefica a favore dei bambini leucemici e al sostegno delle loro famiglie, ovviamente non competitiva. Poi ci saranno eventi culturali, la presentazione di un libro sul Monte Lussari e la proiezione di un film documentario proprio sul Giro d'Italia. Per quanto riguarda i nostri giovani verrà avviato nelle scuole il progetto la bicicletta come strumento di educazione in modo da insegnare le regole del rispetto degli altrui, non solo a livello stradale ma anche degli altri che è comunque la base di vita. Tutto poi si concluderà il giorno 25 che ci sarà la Notte Rosa. In questa giornata la viabilità in via Roma verrà chiusa dalle ore 15 fino alle 24 durante le quali ci sarà animazione per i bambini, musica itinerante e i ristoranti e i bar del luogo presenteranno dei menu e degli aperitivi ovviamente a tema rosa e per concludersi alla fine con un concerto di musica da vivo e DJ che durerà fino a notte in preparazione appunto di quello che avverrà nei giorni successivi. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con l'informazione. Torneremo live alle ore 19 con il nostro TG serale dedicato sia allo sport che all'attualità e alla cronaca e poi alle ore 21 per play con l'agenda 2023 speciale elezioni dedicata al confronto tra i candidati sindaci alla carica di Palazzo d'Aronco a Udine, Bettoni, Fontanini, Salmè e Marchiol con Alberto Terrasso e Francesco Pezzella confronto da non perdere stasera ore 21 e 15 su TV12. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio!